In questo video si presentano le sperimentazioni che sono in atto all'interno di una ricerca per verificare quali possono essere i sistemi attraverso i quali recuperare i piccoli borghi abbandonati e attraverso l'integrazione degli immigrati. Sono sperimentazioni già compiute nell'area ionica della Calabria, il fine principale è quello di riuscire a trovare un equilibrio tra partecipazione attiva lasciando stare l'istituzionalizzazione come marginale a questi processi in quanto spesso l'istituzionalizzazione di questi processi comporta una loro cristallizzazione. Quindi l'obiettivo è trovare dei metodi lasciando attiva e partecipe gli immigrati, i cittadini a questo tipo di processo e quindi lasciando anche quella vitalità che è propria di questi sistemi operativi. Sono Antonella Sarlo, sono una ricercatrice di urbanistica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e sono responsabile dell'unità di ricerca PRIN. Nel caso il tema di ricerca è piccoli comuni e coesione sociale, politica e pratica urbana per l'inclusione sociale e spaziale degli immigrati. Due sono le parole chiave, piccolo comune e inclusione. Perché piccolo comune? Perché fino ad oggi tutti gli studi che hanno riguardato l'inclusione degli immigrati hanno riguardato la grande dimensione, le grandi aree metropolitane o le polarità urbane. Inizia questa storia che è una storia veramente singolare. Inizia nel 1998 in emergenza, generando un effetto di rottura. Sostanzialmente l'emergenza qual è? L'arrivo di una nave, la nave Ararat, a Badolato, che porta un carico umanitario di più di 800 persone, la maggior parte delle quali bambini e donne. Nasce a Badolato questa idea di provare a recuperare il borgo antico per ospitare gli immigrati. Quindi cercano di rintracciare i proprietari di queste case del borgo antico, un borgo peraltro molto bello del Settecento, abbandonato, e li rintracciano e riescono ad avere alcune di queste case abbandonate in uso con un contratto di lungo periodo con un affitto molto basso, 100.000 lire, siamo nel 98 ancora, inizia un processo di recupero che vede coinvolti anche gli stessi immigrati per trovare degli alloggi che in qualche modo riproducessero anche la dimensione familiare laddove sono le famiglie che arrivano e non il singolo a Riace. Sostanzialmente un gruppo di cittadini sente di questa esperienza, la va a vedere e decide di replicarla a Riace, perché nel frattempo continuavano gli sbarchi in Calabria. È un progetto che sostanzialmente, oltre all'accoglienza, poi inizia a lavorare sulla rigenerazione urbana integrata, cioè dice sì, noi non possiamo solo accogliere, dobbiamo provare a radicare queste persone qui, perché ripopoliamo se loro restano. Quindi iniziano a recuperare, nasce questo progetto che si chiama Riace Village, che sarebbe il recupero delle unità immobiliari, sempre del vecchio borgo, non solo per ospitare i profughi, ma anche per un turismo solidale. E quindi c'è, come dire, effettivamente un afflusso di persone che vengono a vedere questa esperienza, e questa esperienza inizia a crescere su se stessa, quindi recuperano le case, recuperano un vecchio palazzo, che diventa il cuore di questa iniziativa, iniziano a recuperare gli antichi mestieri, in particolare la tessitura della ginestra, e ad aprire una serie di laboratori, il laboratorio della ginestra, il laboratorio del vetro, c'è tutta una serie di laboratori che mettono insieme gli antichi mestieri, gli antichi saperi, insieme ai saperi di chi arriva, per entrare all'interno del mercato, il commercio ecosolidale. Questo progetto cresce su se stesso, nel 2004 Domenico Lucano diventa sindaco di Riace, e da lì parte una terza azione, costruire reti. Questa esperienza è diventata oggetto di una legge regionale, specificatamente dedicata all'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, mettendo insieme esterno ed interno. Nei momenti in cui viene varata la bossi fini, forse per riequilibrare un impianto molto duro, viene deciso di finanziare un progetto che si chiama SPRAR, cioè Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati. I singoli comuni si candidano per poter essere SPRAR. Lo SPRAR fornisce loro una serie di servizi che le piccole realtà locali avrebbero difficoltà, corsi di lingua, servizi di assistenza legale, eccetera, che sono necessari. Però si perde nell'istituzionalizzazione quella adattabilità dei modelli locali rispetto alle singole situazioni. Quindi per un verso l'istituzionalizzazione è un successo delle pratiche, per un altro verso diventa una trappola, una possibile trappola. Questa è la storia di Riace che avrebbe tesso necessità effettivamente di trovare linfa nuova e che mette proprio in evidenza come la dimensione del piccolo comune in Calabria, che è totalmente diversa dal piccolo comune del Veneto, che è legata ai distretti industriali e che quindi ha un tessuto economico forte, pone dei problemi anche sulla sostenibilità di esperienze positive. che però hanno consentito di recuperare veramente un borgo che era in totale abbandono. Hanno partecipato i sindacati, cioè c'è stata un'azione corale su questo progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!